a taranto oggi arriva una delle navi da crociera e guardate cosa c'è qui alle spalle proprio nelle vicinanze a pochi metri dalla pensillina liberty da giorni e giorni veramente c'è praticamente uno sfogo di fogna che va ad ammorbare tutta l'area vedete da qui dal tombino fuoriesce di tutto guardate qui il tombino dove io sto premendo guardate 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 e viene inondata tutta la zona guardate e scende e scende fino a lì guardate continua prego il nostro operatore di seguirmi guardate guardate qui dove arriva e scende tutto qui sino ad arrivare a mare la cosa grave è che vogliamo promuovere la città di taranto qui ci sono dei turisti sono in vacanze al alberga sono lì all'albergo e guardate è molto pericoloso è molto dannoso per la salute guardate altri altri turisti ecco guardate allora pensate un po' Melucci sindaco Melucci assessore vice sindaco Manzulli guarda la merda che sta qua guardate la merda che fuoriesce tante segnalazioni sono state fatte go good luck saluto agli amici buona fortuna e dicevo guardate qui le segnalazioni guardate qui scusate la fogna abbiamo fatto decine decine di segnalazioni cittadini che hanno segnalato attività commerciali che hanno segnalato perché non è possibile questi turisti questi turisti albergano qui e qui sotto si ritrovano lo scarico di fogna è normale una cosa del genere è normale guardate qui Melucci Melucci cosa aspetti ad intervenire Melucci cosa aspetti allora mi potrete dire ma è competente quello ma è competente quell'altro non me ne frega niente voi siete Melucci tu sei la massima autorità sanitaria cittadina qui c'è la merda guarda qui la merda la merda come cazzo non ti rendi conto Melucci ma così volete fare turismo questo è turismo avete il coraggio di parlare ma con quale cazzo di coraggio parli di turismo Melucci guarda qua guarda è uno schifo è uno schifo non siete all'altezza di amministrare Taranto perché qui sono state fatte decine decine di segnalazioni e nessuno si è degnato di intervenire con le navi da crociera con i turisti con i bambini che vengono a visitare Taranto levatevi da mezzo fatelo per il bene di Taranto questa questa è la green economy di Melucci questa signori cari è la transizione ecologica questa è la blue economy ma levatevi dai mezzo per favore per non dire qualche altra parola Grazie a tutti